Oggi ci ritroviamo qui a Gibellina con la presenza del Presidente della Repubblica, con tutti i sindaci della Valle del Belice. Che valore ha questa giornata? Che valore assume considerando la commemorazione del 23 maggio della morte di Falcone? Io credo che questa sia soprattutto una giornata importante per il fatto che un solo Presidente della Repubblica, Sara Agat, lo ha preceduto i giorni subito dopo il sismo. Io ho avuto il piacere di portarlo a Partanna, ero sindaco allora, sono stato sindaco a Partanna per 35 anni e quindi conosco tutta la storia del Belice perché ho lasciato soltanto lo scorso anno. E devo dire che riveste una grande importanza perché dopo il terremoto d'Abruzzo, un Presidente della Repubblica che si preoccupa di visitare il Belice che ha avuto purtroppo, ahimè per noi, più morti per il terremoto, per il nostro terremoto. Noi abbiamo superato le 400 vittime, tutto questo è certamente un riconoscimento e soprattutto un impegno a continuare per quello che è necessario ancora nell'opera di ricostruzione.